Primo corso dell'anno di chirurgia in diretta nella clinica aquilana di Villa Letizia, organizzato dal dottor Paolo Vittorini. Due giornate nel presidio sanitario a Preturo, una di teoria e una in pratica in sala operatoria, per affrontare varie tematiche legate al rimodellamento corporeo della regione mammaria. Tanti medici provenienti da diverse regioni d'Italia all'Aquila. Questo è un corso di lave e saggeri che prende come spunto il rimodellamento corporeo della regione mammaria. La regione mammaria che dopo a volte gravidanza o dimagrimento perde tono, scivola. E quindi noi affrontiamo con altri esperti che vengono da altre regioni d'Italia questa tematica del rimodellamento con l'utilizzo di protesi di ultima generazione. Per la donna dopo una gravidanza, un dimagrimento o per altre ragioni, vedere il proprio seno cambiato vuol dire grande insoddisfazione, come spiega il chirurgo. Chirurgia estetica sì, ma piccole dosi quando è veramente necessaria, spiega il professionista aquilano. Il chirurgo plastico deve intervenire laddove c'è una giusta causa, laddove si nota che effettivamente c'è un problema di natura fisica, a cui molte volte è abbinato anche un problema di insicurezza psicologica. E quindi noi cerchiamo di andare e combinare questi due cambiamenti. Cambiamento sia a livello fisico attraverso il rimodellamento della mammella, quindi per ripristinare sia l'aspetto estetico, ma anche l'aspetto e l'integrità psicologica della persona. Cambiamento Cambiamento Grazie a tutti